Il Monza ha detto se oggi vinciamo, se domani vinciamo a Recco, è la prima volta che il Monza ha la sua storia, fa 5 vittorie all'inizio di campionato e poi ho parlato col presidente del Milan attuale e gli ho detto il tuo Milan è il mio Monza Recco, facciamo una bella amichevole, te ne do 3 a 0, ti esagera, però chi ha visto il Monza recentemente stanno cominciando a fluire tutti gli schemi che abbiamo dettato, Brocchi e Dio e Gagliani, sta vedendo una partita con Monza molto piacevole. Se le propone una fusione qualcuno la fucina? No, magari compriamo lo stato di Ciarcino. Arrivederci. Ciao. Io ho il video di aver visto diverse volte. Sì, a Cernodio stesso. Come ti chiamano? A Pozzo, a Pozzo Neri da Cazzo. Ciao. Ciao.